quanta frutta dobbiamo mangiare al giorno diciamo che tutta la frutta è presente il fruttosio che è uno zucchero quindi alla benzina per il nostro corpo per fare dell'attività fisica se una persona sia si muove poco avrà bisogno di meno energia di assumere meno carboidrati se una persona si allena di più si muove di più alla stile di vita più attivo ha bisogno di un maggior introito di carboidrati la solita frase in estate bisogna aumentare l'apporto di frutta è dato sostanzialmente da due cose hanno della frutta sono presenti tanti liquidi seconda cosa che ci sono sali minerali questi li possiamo trovare anche nelle verdure quindi non solo nella frutta alla domanda quanta frutta devo mangiare aggiungerei un pezzettino quanta frutta dovrei mangiare oggi in base all'attività fisica che ho fatto non abbiamo fatto niente tutta la giornata due frutti bastano avanzano se invece ci siamo allenati intensamente ci siamo allenati tanto possiamo andare a 34 un saluto a tutti e ricordatevi di mangiare anche la verdura ciao